Tutto pronto, va di Somma all'incrocio dei pali, segna Salvatore di Somma, è qui, direi che Massimo che è per te, devo venire per forza da te, lacrimuccia, nostalgia. Non so se, insomma, ha mai calciato un rigore nella sua carriera. Però dimostra di saperci fare. L'ha fatto oggi a fronte a vuota, è sempre stato bello però un duello tra forte e, insomma, che ora... E' stato bravo anche nel controllo di sinistro e poi a indirizzare il palone nell'angolo. In precedenza abbiamo assistito a un bel lavoro intenso, inusuale per una squadra di calcio su un campo di bicciole, però questo tipo di lavoro è importante per le articolazioni, per le caviglie, per i genocchi. Quindi è un lavoro che è stato voluto da un professore Capistrano che ha sicuramente... Attenzione, scusami Massimo, perché c'è Pizzella in porta con Di Somma che va a calciare. Vediamo, vediamo se ci sarà questo due... no, Pizzella abbandona la porta. E Di Somma adesso invita Pane ad andare tra i pali, tutto pronto, la rifacciamo, la rifacciamo. Dal dischetto ci va il capitano, il direttore, Salvatore Di Somma tra i pali Pasquale Pane. Attenzione, duello dal dischetto, in corsa media, tutto pronto, va di Somma contro Pane e la parata. La parata di Pasquale Pane, che esulta ovviamente, è andata un po' meglio prima Massimo. Attenzione ancora di Somma che adesso calcia per riscattarsi. Un SMS a Pane. E magari poi gli dice che gliel'ha fatta parare, ecco, mettiamola così, mettiamola così. Pensavo ad un tiro di potenza, invece ha potuto piazzare, però troppo lento il tiro. Però anche Pane, insomma, competitivo, poteva... Traversa adesso, si sta divertendo. Guarda, la forma fisica è ancora buona per il direttore che adesso prende anche il palo. Guarda, guarda, guarda.